Ciao accherine e accherini! Negli ultimi giorni si parla tantissimo di multe per chi guarda film o serie tv in streaming su siti come Streaming Community. C'è parecchio panico e la domanda più gettonata è se apro un sito di streaming rischio davvero una multa? Oggi voglio fare un po' di chiarezza e rispondere ad alcune delle vostre domande analizzando cosa succede davvero quando apri il sito o clicchi su play. Vedremo insieme cosa accade a livello tecnico con le richieste al server non preoccuparti, sarà semplice perché il tuo provider internet non può vedere il contenuto di quello che guardi perché una VPN non è la soluzione definitiva e anche la questione degli OnePod. Analizzando il traffico, quando si apre il sito o si clicca su play si può vedere cosa succede davvero dietro le quinte. Infatti, quando clicchi sul link di Streaming Community il tuo browser fa parecchie richieste a varie risorse necessarie per caricare il sito immagini, stili grafici, script e così via. Ma questo è del tutto normale. I siti web di oggi sono molto più complessi e richiedono un numero maggiore di risorse rispetto al passato. Ma cosa succede quando premi il tasto play su un video? Come puoi vedere qui, quando fai play su un video non stai scaricando tutto il film in un colpo solo. Il video, infatti, viene diviso in centinaia di piccoli pezzi chiamati segmenti video. Sono questi file qui con estensione .ts. Se clicchi un punto a caso nel video si vedono subito richieste per altri segmenti perché quelli scaricati fino a quel momento erano solo quelli dell'inizio. E come puoi notare, questi segmenti video non arrivano dallo stesso dominio del sito ma da un altro dominio, in questo caso serversicuro.cc. Un nome decisamente ottimista. Un dominio, in pratica, non è altro che il nome del sito che digiti nella barra del browser come ad esempio youtube.com. In questo caso serversicuro.cc è un server che si occupa di distribuire contenuti video, quelli che tecnicamente si chiamano cdn, content delivery network, pensati proprio per farlo in modo efficiente. Ovviamente io riesco a vedere tutte queste richieste perché li sto guardando dal mio computer. Quindi ho accesso diretto al traffico che passa dal mio browser. Ma cosa vede invece un osservatore esterno come il tuo provider internet? Cioè, cosa può spiare chi ti fornisce la connessione? Il provider internet è il tuo operatore internet. Team, Vodafone, FastWeb, Iliad, ecc. È l'azienda che ti fornisce l'accesso a internet sia a casa che sul cellulare. Quando navighi su internet, tutto il traffico passa attraverso il provider, quindi si tende a pensare che vedano tutto. Però qui ci sono due scenari, a seconda che il sito usi il protocollo HTTP o HTTPS. Questi sono i protocolli usati per comunicare tra il browser e il server. Se un sito usa HTTP, la comunicazione non è cifrata. Quindi chiunque intercetti il traffico, come il provider o qualcuno con accesso alla rete, può leggere tutto. Le pagine, i dati e persino username e password. Per esempio, in questo sito di test che usa HTTP, quindi non cifrato, posso fare un attacco man in the middle. Cioè mi metto in mezzo tra il computer e il server e intercetto tutto. Se provo a fare login, si vedono subito in chiaro Bill come username e Gates come password. Tutto questo, ovviamente perché la connessione non è protetta. Invece, se il sito usa HTTPS, tutto il contenuto viene cifrato. Quindi non è possibile sapere cosa stai guardando o quali dati stai inviando. L'unica cosa visibile sono gli indirizzi IP di origine e destinazione e il dominio che stai visitando, ma non il contenuto. Un indirizzo IP non è altro che una serie di numeri che identifica in modo univoco un dispositivo su internet. Un po' come un indirizzo di casa. Quindi, il tuo provider internet non vede il contenuto delle pagine o dei video, ma può vedere il dominio a cui ti colleghi, tipo streamingcommunity.qualcosa o serversicuro.cc. Questo accade perché, quando digiti un indirizzo web, il tuo computer deve prima scoprire l'indirizzo IP reale del server e lo fa inviando una richiesta DNS, che traduce il nome del sito in un indirizzo IP. Le richieste DNS però non sono cifrate nella maggior parte dei casi, quindi un osservatore può intercettarle e sapere quali siti hai visitato. Una volta ottenuto l'IP del server, tutte le richieste successive vanno direttamente lì, senza rifare la richiesta DNS ogni volta. Infatti, tornando all'analisi del traffico, si vedono chiaramente le richieste DNS inviate dal mio computer. E si nota che viene fatta una richiesta DNS a serversicuro.cc, prima di ricevere i segmenti video. Quindi, il tuo provider non vedrà il contenuto del video, le singole pagine che visiti all'interno del sito, e i titoli dei film o delle serie che stai guardando. Ma potrà vedere a quali domini ti colleghi, tipo serversicuro.cc, quando ti colleghi, e in alcuni casi può stimare quanta banda stai utilizzando, cioè quanto stai scaricando. Infatti, può solo vedere che ti stai collegando ad un certo sito e quanto traffico stai scambiando. Ma queste sono solo informazioni generiche che ogni sito usa. Anche guardare YouTube o fare una videochiamata genera traffico continuo. In teoria, potrebbe intuire che stai guardando un video, ma non può sapere cosa, né provarlo. E soprattutto, non è che il provider stia lì a controllare ogni utente uno per uno. Riceve miliardi di richieste ogni giorno. Quindi, questo tipo di dati non basta per dire con certezza cosa stavi facendo nel caso generico. Ovviamente, questo discorso vale solo se non si usano OnePot. Infatti, un'altra teoria che sta girando è che le autorità usino siti fazulli, ovvero OnePot, per beccare chi guarda film pirata. Se fosse vero, potrebbero effettivamente vedere cosa guardi, perché il server sarebbe controllato da loro e potrebbero registrare ogni tua azione. Ma c'è un punto fondamentale qui, perché per rendere credibile il sito, dovrebbero pubblicare contenuti coperti da copyright. Quindi, commettere loro stessi un illecito. E questo è molto poco plausibile per autorità come la Guardia di Finanza o altre forze dell'ordine. Ad oggi, non ci sono prove ufficiali di OnePot in Italia. L'unico fatto certo è che alcuni vecchi domini reindirizzavano al sito della Guardia di Finanza. E lì, il tuo IP poteva essere effettivamente registrato. Ma questo da solo non basta dimostrare che stavi guardando contenuti illegali. Se vuoi approfondire cosa sono gli OnePot, ti rimando al video che ho già fatto. Un'altra domanda è quella. Ma se uso una VPN, cambia qualcosa? Sì, usare una VPN cambia quello che il tuo provider può vedere. Quando navichi con una VPN attiva, tutto il traffico del tuo computer viene incanalato dentro un tunnel cifrato, che va dritto verso il server della VPN. Questo significa che il tuo provider internet non può più vedere nemmeno le richieste DNS, né i domini che visiti, né tantomeno i contenuti. Può solo vedere che ti stai collegando ad un server VPN, ma dall'in poi non vedi più niente. Ma attenzione! La VPN sposta la tua fiducia dal provider internet al provider VPN. Infatti, anche se molte VPN dichiarano di non fare log, cioè di non salvare nessuna traccia di quello che fai, alla fine è una questione di fiducia. Devi fidarti che quella VPN non tenga davvero log, non collabori con autorità e non vende i tuoi dati a terzi. Questo può succedere con VPN gratuite. Quindi la VPN può aumentare la tua privacy, ma non è una bacchetta magica. Ne parlo meglio in un video dedicato, lo trovi qui sopra o in descrizione se vuoi approfondire. Tecnicamente, anche guardare contenuti pirata è vietato e può essere sanzionato. Lo prevede l'articolo 174 TER della legge sul diritto d'autore, che parla di sanzioni amministrative per chi fruisce consapevolmente di opere protette senza autorizzazione. Ma nella pratica le multe effettivamente arrivate finora in Italia sono legate a casi molto più chiari e gravi, come pagare per abbonamenti IPTV illegali o distribuire o rivendere contenuti pirata a terzi. Ovviamente non sto invitando nessuno a usare siti pirata, né dicendo che si possa farlo a cuor leggero. Stiamo comunque parlando di siti illegali e di azioni potenzialmente sanzionabili. E attenzione, questo non significa che in futuro non possano esserci multe anche per chi guarda passivamente. Le leggi cambiano e la situazione potrebbe evolversi. Però al momento questo è il quadro reale. Tante notizie che girano sono esagerate o poco chiare. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare un po' di chiarezza su come funzionano davvero queste cose. Se hai domande lascia pure un commento e se vuoi approfondire trovi altri video in descrizione. Se il video ti è stato utile lascia un like, condividilo con chi è ancora in panico e iscriviti per altri contenuti sul magico mondo della cyber security. Ciao e alla prossima!